Non c'è pace per la Calabria, la terra continua a tremare. Sono state 23 le scosse che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato la scorsa notte, delle quali 7 di magnitudo superiore a 2, a largo della costa Calabra, sud-occidentale. Lo sciame più forte ha avuto una magnitudo 3.9 all'1.52, con epicentro a 7 km da Nocera Torinese e Serra Daiello, in provincia di Cosenza, e ipocentro a 33 km di profondità. Le altre scosse più intense hanno avuto magnitudo 3.4 all'1.55 e 3.5 alle 2.02. Tanta la paura, gente in strada, ma nessun danno è stato al momento registrato. In molte circostanze il panico è stato scatenato da messaggi sui social e Whatsapp, nei quali si parlava di rischio tsunami e di un'eruzione probabile dello stromboli. Notizie ovviamente non accertate, le cosiddette fake news, e tante ne girano in questo momento. Notizie né tantomeno diffuse dalla protezione civile, ma che hanno generato il fuggi-fuggi in auto di diversi residenti delle zone marine. Tante persone hanno scelto di trascorrere la notte in macchina.